Grande partecipazione di pubblico ieri a Mezzo Iuso per la giornata conclusiva del carnevale storico Il Mastro di Campo. Nei prossimi giorni sulle nostre emittenti trasmetteremo un'ampia sintesi della manifestazione. Si distingue dagli altri carnevali perché la gente è coinvolta tutto, fin dall'inizio, una settimana prima, c'è il coinvolgimento di una comunità intera e devo dire che la distinzione sta che mentre gli altri comuni organizzano con carri allegorici e con maschere particolari, qua il Mastro di Campo è una manifestazione che coinvolge tutta la comunità e che, come dicevo poco fa, ha inizio almeno una settimana, dieci giorni prima, con le prove e con un coinvolgimento totale della comunità intera. È una manifestazione unica nel suo genere, è una pantomima che narra la guerra tra il Mastro di Campo e il Re, che si conclude con la vittoria del Mastro di Campo. Abbiamo superato abbondantemente quella che era l'idea dell'acquisto di un defibrillatore che serve per tutta la comunità di Mezzo Iuso e soprattutto perché pure noi, come l'iniziativa è stata presa da noi, Associazione Adrasto, con la collaborazione appunto del Foforio e di alcuni amici che si sono in prima persona spesi per queste donazioni e a noi è venuta l'idea perché dove noi operiamo, che è il campo sportivo comunale, abbiamo ben 140 ragazzini da piccole amici ad allievi regionali e naturalmente noi da buoni dirigenti dove c'è la potenzialità, dove c'è un rischio che possa accadere, ce ne liberi di qualche cosa, di qualche problemino, laddove c'è il defibrillatore che tra l'altro ora diventerà un preciso dovere di tutte le associazioni. Poi ci tengo a precisare che l'Associazione Adrasto opera in maniera disinteressata e gratuitamente per tutti i ragazzi che vogliono fare scuola a calcio. Grazie.